AAAAAA AAAAAA CHE PÈ Ma aspetta aspetta c'è scritto non girare l'angolo Ma io non voglio più giocare Nell'episodio precedente No, Steph è vivo No, Steph è vivo Faccio il dungeon a fuori No, Steph è vivo No, aiutami aiutami No, ecco me faccio A fanculo il trio Tu non hai idea di dove sono io Ti sei suicidato No, son vivo, zitto un po' AAAAAA Guardalo Sono vivo, sono vivo, sono vivo Io sono morto, io sono morto ragazzi Non sei vivo Sono vivo e basta zitto Una mega slap Ti verrà a vedere ma non abbia occhio Questo è ciò che è successo nell'episodio precedente Siamo messi un po' tutti male Ma cercheremo di salvarci l'uno con l'altro Ore 18, episodio 25, non manca Buona visione Buona visione Buona visione Parla Parla E' la sabbia No, Suri Dobbiamo tornare indietro e salvare Vegas Ha ragione No, ma intanto non potete Sì che possiamo Dovete tornare e distruggere la montagna di sabbia che è sopra di me Ah proprio senza senza pala E' bellissimo Cioè è un dungeon terribile ragazzi No, no, dove sto andando Mi sa che sbagliate le nostre No, ho sbagliato strada regà Regà ho sbagliato strada C'è un dungeon qua No, 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 no Ho sbagliato Vegas sto arrivando Sono quasi arrivato Sei arrivato Sì Tutto questo Nel prossimo episodio No, no, no Ora Ciao No, ora Ciao Sto arrivando Vegas E' bella la su Spans Ti vedo ste Io lo chiederei così Poi fai Poi fai il nuovo episodio Guarda che te stai venuto da me Non stai venuto da Vegas Sto andando da Vegas Il nuovo episodio farai nello scorso episodio Vegas era intrappolato sotto No, no, sto arrivando Ma non lasciarmi qui No, no, no Non mi lasciare Zio ci sono Tu non ci sei Tu non hai idea di dove sono Zio ho detto che sto arrivando e ti salverò Capito Ti posso spiegare Allora è un labirinto E' un labirinto la sabbia Quindi quando sei nel labirinto dimmelo Io ti indico la strada Quando sei nel labirinto dimmelo Oddio Scappa Oddio Allora dimmi una cosa Vegas Tu sei morto Oddio Tu sei caduto Ma in quale dungeon sei andato? Porco In quello di Frogner Perché lo potevi interrompere l'episodio Mannale Oh che è stato? Chi è che mi ha picchiato? Allora quello dove c'erano il vetro e la sabbia? Si Fa vedere Lì entri nel labirinto e devi andare a destra E a destra ti troverai di fronte a un tunnel chiuso E lì sotto ci sono io Mi spieghi come hai fatto accadere qui Mi spieghi come hai fatto accadere Lo vedi il buco? Come hai fatto accadere? Allora Oh c'è una chest Enderpearl Elmo Cibo Io vado a bere Oddio Stai dove sei? Stai dove sei? Stai Stai ho quattro bollicini eh Sali su Metti una Metti una torcia e sali su Non vederlo C'era una torcia Io se loggo però non muoio giusto aspetta No Non rischiare Non rischiare Ho ancora in mezzo No Non basta Non basta Ci sono ci sono Vegas ci sono veramente Sei caduto giù? Si Quando inizia il dungeon si può andare o a sinistra o a destra Devi andare a destra E poi di nuovo a sinistra Non al primo ma alla seconda uscita E ti troverai che sarà chiuso Perché ci dovrà essere tipo la sabbia davanti Allora aspetta quando inizia il dungeon A destra Voi a sinistra subito? Non subito Dopo uno Ah quando inizia il dungeon è una testa Devi trovare Beh vicinissimo Non avanzate troppo Se state avanzando troppo Se state avanzando troppo vuol dire che stai sbagliandomi Loggo un secondo e vedete dove sono Oh Dio c'è la spoiler di creeper Non farmi esplodere che c'è la sabbia Logga logga È là giù visto visto Ti salviamo ti salviamo Ti ho detto che ti venivamo a salvare Il trio non abbandona mai Tutto la sabbia sono Quante cazzo di sabbia c'è però? È caduta perché basta che quella è la trappola Il creeper esplode e fa cadere tutta la sabbia Sai cosa temo che sia infinita Fai così Spacco il cubetto e mettici la sabbia E mettici la torcia La torcia Spostati Surry spostati Eh ho capito Spostati Ah dai fai così ok No devi far così aspetta aspetta Vai 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 Poi avanti cazzo c'è C'è la lava C'è la lava C'è la lava No Prova ad logare un attimo Vegas giusto un attimo Oh no 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 Oh no, via, via, scrivi, scarpa, no, odio scarpa, ragazzi questo taggione è malefico, questa è pazzia, basta, 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 e in tutto ciò tu dico che ha preso la roba chi è? Suri, suri, basta, chiudi, non si va avanti, ma sei malato, basta, 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 ma adesso dove andiamo, io c'ho tutto qua, di qua, suri è morto, quindi no, aspetta, suri, provo a dare qualcosa, tieni, ti do degli oggetti, tieni, tieni, avete la terra, se avessero della terra sarebbe il totto, io c'ho della sabbia, sono pieno di sabbia, aspetta, questo lo piazzo, questo potrebbe essere utile che avanti, ma io questi dungeon non li voglio, qua c'è il diavolo, ma che ci sono temporali, che cazzo sta succedendo, andiamo di qua dove c'è la nether track, ma tu sei già andato, e poi muore, sono l'esploratore titanico, che c'è scritto, super challenging and devil, vabbè è piuttosto Vegas, qua c'è il diavolo, don't turn the corner, aspetta, aspetta, c'è scritto non girare angolo, porco giuda, che c'è, rasha, no aspetta, appena lascio la roba, ma che rasha, io te muoio, la lana, è in cima, ca, ma cos'è, no, 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 suri, 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 vai vai, ciao suri, lo sai che se fai spawnare i tuoi mob non riusciremo mai più a venire noi, suri ce la farà, suri ce la farà, guarda suri quanta la guarda, la zoomala, la zoomala, vai suri, vai suri siamo tutti, odio devo saltare, se ce la fai per tutta la di sotto, ciao suri, ciao suri, è stato bello, bello che adesso ha fatto spawnare i mob, bravo suri, basta allontanarsi, questa roba di chi è? mia, l'ho lasciata la prima di morire, oddio c'è un creeper, trovate dietro veloci, davvero, come c'è un tipo uno skype, ma che cazzo, fermo, fermo, oddio, veloci, ma dove, no, 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 io farm un po' di pietro, è deciso, è deciso, è deciso, è deciso, provo a dormire, magari diventano notte, ma io non voglio più giocare, provaci, provaci, non voglio giocare più, il top sarebbe se avessimo della fottutissima terra, potrei piantare la carota, dormo, dormo, può dormire, si, vegas può dormire, cazzo, vegas è salvo, oh mio dio, comunque secondo me alla fine del gioco tutto il più, il più fattibile è quello dove è morto suri, si, alla fine dei giochi, stai dicendo che sono handicappato, si, si, esatto, però questo qua della sabbia è quello che mi piace di più, ma tu sei pazzo, si, ragazzi, scrivete nei commenti, dove andiamo, qual è il dungeon da fare, tanto lo sapete che moriremo e faremo tanti fate, quindi divertitevi, ho due torce, possiamo salvarci nell'acqua se volete, nell'acqua? ma perché nell'acqua si muore? no, non si muore, in realtà mi sa che si fa anche senza torcia, no, io non voglio andare nell'acqua, io odio l'acqua, non ti piace lavarti? no, no, quindi cosa facciamo, ragazzi, restiamo con un dubbio? i viaggi di odoranti anche per vegas, non solo per me, no, no, io voglio le gole ad or, restiamo con il dubbio? o ti vuoi tornare qua? non lo so, non lo so, voglio solo vedere una parte un po' più avanti di questo, questo qua, ma probabilmente, ragazzi, questo è l'ultimo, l'ultima intersezione, cosa è? è morto, come hai fatto a morire? eh, stavo saltellando, che coglione, ragazzi, in questo episodio abbiamo maestosamente aggiungerei salvato il cadavere di vegas, che stava per morire sottellato da tonnellate e tonnellate di lava e tappia, oggi però è una giornata speciale, volete sapere come va a finire? quindi alle 18 ci sarà il prossimo episodio, mi raccomando, non mancate all'appuntamento sembra un'intersezione davvero difficile, però ce la faremo, ve l'assicuro vi ringrazio il video, qua da sempre su The Vegas è tutto, paura!